buongiorno a tutti eccoci in questo nuovo video acquisti da wish allora oggi mi è arrivato questo pacchettino e da portarlo così ho già una piccola idea di cosa sia quindi andiamo subito a vedere che cosa sia eccola qui è la UV resin come vi avevo detto che ho preso i bezel e stavo aspettando anche la resina UV è un po rovinata la confezione ma poco importa l'importante che sia buona la resina vediamo se riesco ad aprirla eccola qui ok quindi adesso molto presto arriveranno anche video con la UV resin sono molto felice spero che lo siete anche voi e quindi vi lascio al prossimo acquisto ciao eccoci qui oggi mi è arrivato questo pacchettino da wish scusate se ho le mani un po' azzuzze ma appena fatto dei lavoretti per natale e mi è arrivato questo pacchettino quindi vediamo cosa è arrivato questi sono colori per capelli meravigliosi adesso non si chiude più aiuto in poche parole si mette la ciocca qua in mezzo e si striscia sulla ciocca e lascia giù il colore e c'è verde, viola, blu, wow blu e fucsia wow bellissimi e li proverò e se vi interessa vi farò vedere come si utilizzano vi farò magari un video dove vi faccio vedere come si usano se vi interessa do il link del di questi qua lo scrivete qua sotto in un commentino e ve lo lascio nell'info box e niente spero che vi piacciono e al prossimo acquisto eccoci qui con un altro pacchettino scusate la mia voce che è bassissima non ho più voce un altro pacchettino da wish e wow wow e avevo ordinato duemila mezze perle e guardate quante sono guardate e ci sono di tutti i colori fucsia, rosa, verde, gialle, azzurre, blu, rosse bianche, tutte perlate, rosa, rosa chiaro, rosa un po' più scuro lilla, mamma mia quante sono bellissime, bellissime, bellissime bellissime e queste niente questo era un piccolo pacchettino che mi è appena arrivato da wish e noi ci vediamo al prossimo acquisto ciao eccoci qui con questo nuovo piccolissimo pacchettino da wish e questo sarà l'ultimo per questo video e andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro wow aspettate guardate che bello allora ho preso questo anello con la zampotta questa è quella dietro e questa è quella davanti vediamo se riesco a farvelo vedere meglio ecco è bellissimo poi comunque si allarga e si stringe si stringe a seconda della vostra misura ed è bellissimo ed ecco qui guardate che stringe il vostro dito bellissimo e niente spero che questi acquisti vi siano piaciuti se è così lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video e noi ci vediamo al prossimo video ciao